Nata in Toscana, si trasferisce presto con la famiglia nella capitale, scoperta dallo stilista Roberto Capucci. Venne da lui lanciata nel mondo della moda, divenendo un'indossatrice fotomodella conosciuta in tutto il mondo. Negli anni 50 arriva anche il cinema, in particolare con il film western Il cacciatore di indiani accanto a Kirk Douglas, che la scelse personalmente dopo aver visto una sua foto su una rivista americana. Viene scoperta dopo poco anche dalla critica, vincendo l'orso d'argento per la miglior attrice al Festival di Berlino nel 1956. Grazie all'interpretazione nel film Donatella di Mario Monicelli. Ha lavorato con molti registi importanti in Italia, in Francia e negli Stati Uniti. Come Orson Welle e Howard Hawks, ed accanto a grandi attori come Marcello Mastroianni, John Wayne e Robert Mitchum. È infatti una delle poche attrici italiane ad aver lavorato con successo anche a Hollywood. Dal 1970 ha iniziato a diradare l'attività cinematografica, dedicandosi alla televisione, soprattutto a miniserie e telefilmi in Italia. Nel 1971 ha presentato il Festival di Sanremo accanto a Carlo Giuffret. Nel 1995 la casa editrice Rusconi ha pubblicato la sua autobiografia Sono come sono. Dalla dolce vita e ritorno.